Che luce del c***o! Meglio, pfff, non manco per niente. Allora, nel video di oggi nuova tier list. Ormai le tier list fanno parte di noi, del... Su questo canale. Cioè, inizio malissimo. La tier list di oggi sarà una mega classifica dei Disney Channel Original Movie. Dovevo farlo, dovevo. Sono cresciuta con Disney Channel, come sapete, come ripeto, in continuazione, per spiegare e giustificarmi del fatto di essere così... Chi è cresciuto come me con Disney Channel può capire, può capire. No, quel modo di rapportarsi alla vita in modo esagerato, sempre. E possibilmente cantando e ballando. Sì, siamo delle persone orribili con cui comunicare e interagire, vabbè. Oggi quindi faremo questa classifica di tutti i Disney Channel Original Movie, compresi i film che vengono dalle serie TV. Come ormai sapete, la nostra classifica si divide in quattro categorie. Cinque categorie. Super bellissimo power. Andiamo bene. Buono, c'è posta e monnezza. E direi di iniziare subito. Allora, il primo che mi vedo qua davanti è Zapped con Zendaya. Allora, per quanto io ami Zendaya, o Zendaya, se vogliamo dirlo, all'americana, questo film è osceno. È veramente brutto, veramente brutto. Però può essere che sia brutto perché io l'ho visto quando ero già grande. Quindi magari l'avrei apprezzato di più se fossi stata più piccola. Così come per altri film in questa classifica che dirò che sono molto belli, ma in realtà no. Però forse devo, perché altrimenti cos'altro metto in monnezza? Cioè, gli altri secondo me non sono brutti quanto Zapped. Oddio, oddio. Però vogliamo dare... Allora, capiamo se vogliamo fare una classifica veritiera o sentimentale. Io andrei col sentimentale. Quindi comunque Zapped lo metterei in c'è posta. Adesso quattro ore per far funzionare sto coso. Programma, protezione principesse. Capolavoro. Lo dirò per tutti i film. È troppo iconico questo film con Demi e Selena ai tempi d'oro. Bello. Io lo metterei in Anna Mobene. Anna Mobene perché i super bellissimi power... Sappiamo, sappiamo tutti quali sono. Il film di Zack e Cody. Niente de che, secondo me. Vabbè, io lo metterei in buono. Così, per amore, nei confronti di Cole Sprouse e Dylan Sprouse. Camp Rock 2! Wow. Camp Rock 2 è brutto. Ma allo stesso tempo capolavoro perché ci ha regalato Introducing Me di Nick Jonas. Che dopo Pizza Girl, secondo me, è una delle canzoni migliori di Jonas Brothers. Io lo metterei in Anna Mobene. Camp Rock 2. Sì. Oddio no. Mettiamolo in buono. Alex vs Alex. Ovvero uno dei film che derivano da I maghi di Waverly. Premessa. Io adoro I maghi di Waverly. Penso sia la mia serie di Disney Channel preferita in assoluto. E adoro Alex Russo. Questo film tra l'altro l'ho rivisto anche da poco. E, vi dirò, è carino ma non è bellissimo. Però per amore nei confronti di Alex io lo metterò in Anna Mobene. Se lo merita questo posto. Cheetah Girls 2. Possiamo dire il migliore Cheetah Girls in assoluto? Diciamolo. E quindi lo andiamo subito a mettere in Super Bellissimo Power. Bellissimo. Bellissimo. Camp Rock. Camp Rock va in Super Bellissimo Power, raga. Cioè non è per niente ai livelli di Cetah Girls secondo me. E nemmeno di High School Musical che, spoiler, finirà ovviamente in Super Bellissimo Power. Perché High School Musical tutti e tre sono stupendi. Il terzo, la qualità, la qualità. Non è a quei livelli però secondo me, a livello no emotivo, è lì. È lì sulla vetta. Jumpin. Oddio, Jumpin era bellissimo. Con Kiki Palmer. Ci ricordiamo di Kiki Palmer. Super cute. Io amavo Kiki Palmer. L'amo ancora adesso per Jumpin, in particolare. Beh, lo devo mettere per forza in Andamo Bene. Per forza. Vabbè, Lizzie McGuire. Ogni cosa a fare... Subito, qua sopra. Capolavoro. Uno dei migliori film di Disney Channel. Quanto sognavo, sognavo di fare delle vacanze a Roma come quelle di Lizzie McGuire. Con Paolo Valisari. Quel maledetto. Vogliamo parlare di tutta la scena dove lei si prova i vestiti palesemente una città al Met Gala. Anzi, Lizzie McGuire ha inventato il Met Gala. A Esco Musical 3, guarda ragazzi, cioè io così ad occhi chiusi, ad occhi chiusi. Super bellissimo Power. Forse è il migliore in assoluto di tutti i film di Disney Channel. E tra l'altro penso l'unico che poi è stato proiettato al cinema. Perché Esco Musical 3 è uscito al cinema rispetto a tutti gli altri che invece sono usciti semplicemente su Disney Channel. E la qualità di Esco Musical 3 è top. Perché ovviamente avevano un budget molto alto rispetto agli altri film che erano fatti per la TV. Le coreografie di questo film? Wow. Vi prego, anche se non amate i musical, se non amate le cose di Disney Channel, per favore andatevi a vedere le coreografie di I Want It All, The Boys Are Back, And I Don't Remember. Le coreografie stupende, stupende. Descendants. Allora, io non sono mai stata una grande fan di Descendants. Quindi metterò in buono, perché è carino ma non la mia cosa. E lo stesso vale per il primo, quindi adesso lo cerco, eccolo. E lo metto qua, perché entrambi non mi hanno mai fatto impazzire, sinceramente. Cioè, carini, molto carini. Poi adoro Dove, come si chiama, Dove Cameron. Però non è la mia cosa. Poi ormai ero troppo, troppo grandicella per apprezzarle più di tanto. E quindi, Esco Musical, per favore, subito qua. Cioè, ma stiamo scherzando? No. Non vi devo neanche spiegare perché devo mettere Esco Musical lì lassù. Forse se lo merita più di tutti gli altri. Non tanto per la qualità, ma per quello che ha portato poi. Anche questo è un altro film tratto dalle serie e io lo adoravo. Bellissimo. Sa che va qua in Anna Mo Bene. Cioè, se lo merita proprio Anna di stare lì. Tra l'altro vogliamo parlare del fatto che c'è un cameo di Taylor Swift. In questo film, quando Taylor Swift ancora non era super famosa. Ed è carinissima. Cioè, adoro quella parte. E poi, in questo film c'è il balletto. Tredici anni tutte sapevamo ballare quel balletto. Sapete di cosa sto parlando. Cheetah Girls. Il primo Cheetah Girls iconico. Iconico non quanto il secondo. Io quindi lo metterei in Anna Mo Bene perché era bellissimo, ma non top come il secondo. Cadet Kelly, ragazzi. Allora, io vi prego di guardarvelo perché non me lo ricordavo così. C'è tutta la prima parte che è di un trash inaudito. Il personaggio di Hilary Duff è odioso prima di tutto. Secondo sembra strafatta. Non vorrei dirlo, però. Terribile, terribile. E quindi va insieme a Zapped in Cepo Stà solo per amore di Hilary Duff. Perché tutto il resto no. Decisamente no. Ah, ecco, un altro Descendants. Scusate, erano tre, me glielo dimenticati. Oddio Cowbells, ovvero Grosso Guaio a River City. Era uno dei miei preferiti. Però è veramente brutto. Allora, ci sono queste due sorelle, tra cui una delle due era la ragazza che faceva anche film dal futuro, la bionda. Il padre va a questa fabbrica di latte o latticini e finivano in bancarotta. Non mi ricordo bene, comunque loro dovevano fare di tutto per salvare la fabbrica del padre. Trash. Bruttino. Bruttino, ma lo adoravo. E quindi sì, vai, in Cepo Stà. Perché? Halloween Town, un classico. Un classico di Halloween, ovviamente, da vedere ogni ottobre. Lo metterei in buono. Perché Halloween Town è un po' trash. Però, però gli voglio bene. Cioè, ci sono affezionata. Beh, Scum Music 2, ma dai. Cioè, per favore. Ovvio che va qua sopra. Cioè, parliamo di un film che ci ha regalato Zac Efron, che balla Bad on It, e Fabulous, di Shar-Pei. con Ryan che suona un pianoforte rosa dentro una piscina. Livelli altissimi. Questo film è bellissimo. Tra l'altro penso che il 2 sia uno dei preferiti di più persone. Cioè, so che è uno dei più amati, anche più del terzo, nonostante tutto. Quindi il 2, bello, bello. Allora, scrittrice per caso, questo film qua, anche questo è trash. Però mi piaceva tantissimo, perché usavano dei tablet per disegnare e scrivere. Praticamente c'era questa tizia, che era super timida, e non riusciva bene a rapportarsi con le persone, e allora scriveva questo suo diario, che era una sorta di romanzo della sua vita, in cui lei faceva finta di essere un'altra persona. E' solo che ad un certo punto questo diario che aveva, che era un tablet, si trasformava in realtà e la se stessa che lei descriveva, tipo, viene fuori dal tablet e diventa reale. Quelle robe alla Disney Channel. Era carinissimo, però troppo trash, quindi anche lui lo metteremo in cieposta. Oddio, le favolose avventure di Shar-Pei. Allora, questo film mi ha fatto arrabbiare molto per due motivi. Primo, Shar-Pei, la vera Shar-Pei, non si sarebbe mai trovata in quella situazione. perché lei è troppo talentuosa e troppo furba per ritrovarsi in una situazione del genere. Ma è un film molto rosa e molto carino con delle belle canzoni, quindi lo metteremo in buono. Ma Shar-Pei meritava di meglio, ha sempre meritato di meglio, e possiamo dire che non era lei il villain in High School Musical, ma bensì Gabriella. No, allora, chiariamo questa cosa perché ci tengo molto. Allora, Shar-Pei ti dicono che è da quando andava all'asilo, che praticamente partecipa a tutti gli show della scuola. Ed è bravissima, ha un sacco di esperienza, ed evidentemente nessuno è stato abbastanza bravo quanto lei per ottenere le parti che ha ottenuto. E poi, così, all'improvviso, arriva una, a random, che dice ho voglia di cantare, però in realtà a Gabriella non gliene fregava niente, non gliene fregava niente dei musical, di andare a Broadway, di tutte queste robe, però si mette in mezzo e toglie a Shar-Pei la possibilità di fare le sue cose. No! Io sto dalla parte di Shar-Pei che dice state al vostro posto, cioè io mi sono fatta mazzo per riuscire ad arrivare dove sono arrivata e poi arriva questa, non gliene frega manco niente perché questa vuole andare a studiare legge e mi rovina tutto. Giustizia per Shar-Pei. Ok, penso di poter concludere qui la mia flippica nei confronti di Gabriella Montes. Andiamo avanti. Allora, il film dei Maggie di Waverly era carinissimo, però non posso metterlo su, no, lo metto in Annamo bene perché era troppo carino e poi, vabbè, vi ho detto io per i Maggie di Waverly c'ho proprio un... Lemonade Mouth io l'ho sempre un po' odiato lo dico sinceramente cioè non mi è mai piaciuto particolarmente non è brutto però niente di che non mi stavano particolarmente simpatici neanche l'attore e no, lo mettiamo qua in c'è posta. Cheetah Girls One Word faremo finta che non sia mai esistito perché non esistono le Cheetah Girls senza Galeria ovvero Raven sarei tentata di metterlo in monnezza giusto per puntualizzare ma non se lo merita e quindi lo metteremo in c'è posta ma con molto rancore Gemelle Streghelle un capolavoro del trash con gli effetti speciali di Windows Movie Maker anzi peggio Paint Terribile ma originale e a suo modo e a suo tempo soprattutto capolavoro quindi io lo metterei in buono tutte e due il primo era molto carino il secondo non me lo ricordo ma andiamo così sulla fiducia Taiko il Terribile ragazzi 3 era un film su un cane non mi ricordo nemmeno cosa succedeva però tipo lo dovevano addestrare per fare una gara c'è posta c'è posta gliela buoniamo oddio Una Star in Periferia Una Star in Periferia era una delle mie preferite con Brenda Song che era una delle mie preferite in assoluto perché ovviamente con Zack e Cody London insomma chi è che non amava London Tipton e quindi amavo lei e questo film era carinissimo il sogno di ogni fan girl quindi mi sento di metterlo in annamo bene cioè stiamo andando eh su oh Dio San Zenon Zenon era bellissimo tutte e tre tutte e tre belli capolavori Protozoa aveva i capelli più top di tutta la galassia e il suo singolo zoom 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 ha scalato le classifiche galattiche no era troppo carino Zenon e poi aveva un sacco di citazioni a Star Wars che ho colto ovviamente solo riguardandolo dopo anni quindi io lo metto in annamo bene tutte e tre se lo merita se lo merita l'ultimo poi mi piaceva troppo e concludiamo con Wendy Wu lo amavo poi vabbè c'era Brenda Song cioè ve l'ho detto anche prima però secondo me non ha i livelli di annamo bene quindi lo metterei in buono quindi abbiamo concluso anche questa classificona è stata dura è stata molto dura tra l'altro mi sono resa conto che ho saltato qualche film tra cui Starstruck colpita da una stella che nel caso avrei messo sicuramente in annamo bene perché cioè no forse l'avrei messo in buono perché è carino ma molto trash e niente per il resto sono molto soddisfatta soprattutto di quelli che sono finiti in super bellissimo power perché sono dei film che io vedrei fino ai vomiti bellissimi e niente quindi fatemi sapere qui sotto quali sono i vostri film di Disney Channel preferiti soprattutto scrivetemi quali mi sono dimenticata perché sono certa che ce ne sono altri 3 milioni che ho scordato e soprattutto se vi ho ricordato anche dei film che avevate dimenticato perché mentre stilavo questa classifica sono andata a rispulciare un sacco di cose e mi sono ricordata appunto di vecchi film che avevo scordato di aver visto e che invece erano lì e wow i feels come al solito è sempre bello fare queste passeggiate nel viale dei ricordi insieme a voi soprattutto quando si tratta di Disney Channel perché è veramente stata la mia infanzia la mia adolescenza sono cresciuta con queste cose mi hanno letteralmente formata come persona non so se dovrei dirlo e vantarmi di questa cosa forse no ma ma comunque è così come sempre seguitemi su Instagram perché è il social che utilizzo di più è quello insomma dove vi tengo sempre aggiornati sulle cose che faccio e poi sempre nell'info box trovate anche il link per la mia collaborazione con Pumpling infatti utilizzando il codice sconto Cipollotto avrete il 20% di sconto su tutti gli acquisti sul loro sito quindi se vi piacciono magliette a tema cinema e serie tv felpe calzini qualsiasi cosa trovate tutto qui sotto e non l'ha detto questo come al solito io spero davvero che questo video vi sia piaciuto vi abbia fatto ridere o ricordare dei vecchi film e noi ci vediamo alla prossima ciao grazie a tutti Grazie a tutti.